Buongiorno a tutti, benvenuti al quinto daily forum di CLAL. Io sono Matteo Bernardelli, sono un giornalista e sono uno dei due moderatori della sessione di oggi che è una sorta di preview dell'appuntamento di domani che durerà tutta la giornata. L'altro moderatore che è molto più qualificato di me è Nicola Cesare Baldrighi che è presidente del consorzio di tutela del Grana Padano per cui sicuramente conosce il mercato e le dinamiche del settore lattiero caseario molto più di me. Io vi ringrazio per la presenza, siamo in questa sala che è la sala principale, l'auditorium di quello che è l'appuntamento anche di domani del daily forum. Oggi siamo in una compagine ristretta ma siamo qui perché abbiamo la traduzione simultanea per poter permettere anche la diretta streaming sul sito di CLAL. Io darei la parola al fondatore di CLAL che è Angelo Rossi che ci introdurrà l'andamento del mercato lattiero caseario. Naturalmente lo ringrazio perché credo e anzi sono convinto che il forum di CLAL sia il il momento topico per poter discutere di quello che succede nel settore lattiero caseario a livello mondiale. È vero che CLAL è visitato in più di 180 paesi monitorato costantemente tutti i giorni ma è anche vero che CLAL è l'unico che una volta all'anno tiene un forum con dei focus specializzati e che coinvolge i principali player mondiali. Vi ringrazio e ringrazio anche gli ospiti stranieri e i relatori stranieri che sono qui a parlare oggi di futures e di global dell'anno. Sono collegato? Sì? Ok, grazie. Buongiorno, grazie. Avrei piacere che i ragazzi di CLAL venissero qua con me. Francesco, allora qua c'è Francesco, Mirko, Elisabetta, Lagnuenti e Alberto, Marica e a casa Alessandra e poi dopo c'è Alessandro Duca che inizia a fare il nonno come gli hanno. Un applauso lo possiamo fare. E poi abbiamo Carlo collegato da Londra che lavora alla Guardian che è un nostro che collabora, che ha fondato con me la parte informatica di CLAL e poi mio figlio l'avete visto in giro e lui dice papà io latte no ma tutti rimanente posso aiutarti perché ho anch'io un'attività. E poi devo ringraziare anche sua moglie, non ho dimenticato nessuno, il quale ci aiuta sull'aspetto contabile ma sono a casa perché hanno dei problemi con le loro famiglie, hanno dei vecchi in casa. Quindi come vedete la nostra è un po' una famiglia come ci muoviamo. Bene, li vedete? Questi qua andranno avanti loro un domani. Questa sarà la nuova generazione a cui io lascerò andare avanti questa attività. Adesso Francesco tu devi andare là perché mi devi dare una mano per andare avanti con questo. Se voi mi spostate qua sulla mia destra, che così mi posso muovere perché voglio rappresentare. Qui voi vedete che c'è Teseo, Teseo era mio padre, un agricoltore, qui c'è qualche agricoltore mi pare presente, sì, qualche agricoltore è presente. E usciremo con un nuovo sito web dedicato al mondo agricolo perché quanto mai è importante tenere presente il nostro settore e tutta la filiera. Senza i produttori noi non saremo qua. Le nostre imprese, trasformatrici, molto altro punto importante, i nostri consumatori. È tutto un equilibrio che ci abbraccia. Bene, ma questo qui fino in ottobre non ne parleremo. Si sta lavorando per questo nuovo sito, parleremo a tutti i produttori del mondo. L'obiettivo è questo qua, tutti i produttori del mondo. Quindi direi di iniziare magari con uno slide show video e vi devo presentare come va il mercato, come io lo interpreto. È una mia interpretazione, questa. Come la faccio? L'abbiamo su slide show, questo qui si aggiorna online, quindi costantemente aggiornata e possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Qui diciamo, rappresentiamo in questa le connessioni, che cosa muove? Il sistema lattiero caseario, le correlazioni che regolano la determinazione di un prezzo, l'entità dell'offerta, la produzione, l'entità della domanda, il rapporto fra la domanda e l'offerta e la conseguente proiezione commerciale di tale rapporto, l'import, l'export. Questo meccanismo risente a sua volta dell'interconnessione fra grandi elementi internazionali, grandi eventi internazionali, il livello di benessere nazionale delle varie nazioni. Nella numero quattro, quali sono gli elementi internazionali che sono correlati al nostro settore? Le politiche agricole, gli incentivi all'export, i dazzi, gli accordi comunitari, i sistemi delle quote, le politiche monetarie, l'andamento del dollaro, il rapporto dollaro euro e quindi altre valute, il costo delle fonti energetiche, ne parleremo dopo, il mercato mondiale, la globalizzazione, sono tutti elementi internazionali, il sistema prezzi, la consistenza e il numero delle vacche, quante vacche ci sono nel mondo, nelle varie aree e gli eventi internazionali, i conflitti, le tensioni, le emergenze, sanitarie, le epidemie, la siccità, l'eccessiva piovosità. Ecco, la volatilità è causata dai grandi elementi ed eventi internazionali e dalla non conoscenza delle correlazioni in tempo reale. Nella slide numero 5 vediamo il livello di benessere nazionale delle varie nazioni, il PIL, l'inflazione, la distribuzione della ricchezza, sono i livelli di benessere, l'economia dell'azienda agricola, la gestione della stalla, misure igienico-profilattiche, la selezione genetica, l'evoluzione tecnologica, l'alimentazione animale, la produzione, il costo della produzione, manodopera, energia, la gestione dei rifiuti, altro elemento importante. Ho finito di fare? Ora, iniziamo quindi a guardare questo. Ecco, qui è l'elemento chiave per me. Questa slide ci dice in modo chiaro che, ed è un modo anche il 5% del mercato, qui è presente un'azienda di Ponterra, dell'Oceania, il 5% dei pieni, il 40% del mercato, l'Oceania, Australia e Corsa. Questa è, allo stesso avviso, una cosa che disequilibri il mercato. Lo vedremo. Basta qualche cosa che succeda qua, siccità, robe del genere, i prezzi possono salire, non controllabili. Ecco, questo qui è un punto abbastanza importante su cui vi inviterei a riflettere. Andiamo avanti. Le produzioni come stanno andando? Le produzioni di latte nel mondo sono in diminuzione. Il verde e l'Europa è in diminuzione perché le quote al 31 marzo c'è stata una restrizione delle produzioni. Il rosso è gli USA che stanno diminuendo sia in USA che in Nuova Zelanda. C'è una diminuzione perché i produttori prendono meno soldi. Quindi c'è una diminuzione delle produzioni. Certamente siamo molto distanti dal 2013 quando c'era una siccità e una piovosità. Piovosità in Europa e siccità nell'area della Nuova Zelanda. Questo qua vedremo il 2014-15 e poi l'ultimo mese che cosa ci dice? L'Australia sta, che è un grande player mondiale, producendo il 2,9% in aprile ha fatto, in più. Gli USA più 1,7%. L'Unione Europea al 31 marzo meno 1,9%. Cosa sta facendo oggi l'Unione Europea? L'Unione Europea sta aumentando la produzione. In certi paesi, l'Olanda, si parla di un 6,5-7% in più. La Francia che abbia ripreso ad aumentare. Però non c'è, per me i paesi dell'est, non abbiamo dati, i paesi dell'est non penso che abbiano molto latte in più. Anche noi come italiani non penso che molto latte in più l'avremo. E certo, la liberalizzazione porta a produrre di più. Andiamo avanti. Qui lo vediamo in Europa. Questo è quello che, e lo dico qua al mio amico neo-zelandese di Ponterra. Se noi, questo qua, indica i principali paesi, l'Australia, gli USA e l'UE28, le produzioni di formaggio, le produzioni di polvere di latte, di burro, perdon, le produzioni di latte scremato e la produzione di polvere di latte. Di polvere di latte scremato, di latte intero. Come vedete, noi è il formaggio nel mondo che tiene. Le polveri sono un qualche cosa di secondario per il sistema. Per la Nuova Zelanda no. Ma vedremo più avanti, lo commenteremo più avanti. Quindi è il formaggio l'elemento chiave che sostiene, che può sostenere. Qui dice a fianco, dice per esempio che l'Australia ha prodotto meno polvere di latte intero, produce più polvere di latte scremato. Spostano in base alla redditività che dà il prodotto. Così anche vediamo questo in Unione Europea. Mentre gli americani hanno il tram tram, vanno avanti gradatamente. Andiamo avanti. Qui vediamo l'Europa. Ecco gli ultimi tre mesi che si è prodotto di meno, dovuto alle quote che hanno chiuso il 31 marzo. E poi anche qui riproduciamo sempre la situazione. Questo slide soap viene aggiornato sempre, automaticamente. È online. Andiamo avanti. L'Italia, così diciamo qua in Italia, quindi dobbiamo farlo. Vi abbiamo suddiviso per regione il 42% del latte in Europa e in Lombardia, 16% in Emilia Romagna, 10% nel Veneto, 9% in Piemonte e altri 22%. Anche qui c'è una diminuzione dovuta al concetto quote, la chiusura. Quindi si sta producendo di meno per questo periodo. Guardiamo la domanda. La domanda è regolata dal prodotto interno lontano, il PIL. Vediamo che nei paesi sviluppati, nei paesi in via di sviluppo, la domanda che danno dei buoni indici, più 4,4, più 4,75, è atteso un più 5,35. Quindi vuol dire che i paesi in via di sviluppo dovrebbero aumentare il ritiro di prodotto, acquistare di più. Ma gradatamente i paesi sviluppati, vedete che hanno un prodotto interno lordo che tende a crescere, ma più di tanto, io penso che non consumiamo più di tanto. La mia impressione è che in Europa non si consuma più di tanto, negli Stati Uniti invece si consuma molto di più. È diverso il consumatore americano dell'europeo. Questo è il petrolio. L'andamento presso il petrolio è questo in azzurro, è il prezzo della polvere di latte intero. Chi sono gli acquirenti della polvere di latte intero? I paesi in via di sviluppo sono i paesi produttori di petrolio. Venezuela non ha più soldi. Algeria cambiano una volta una polvere di latte intero, una polvere di latte in base a quello che costa meno, una polvere di latte scremato. Quindi la Nigeria, i paesi che non hanno, e quindi è ovvio che un prezzo basso del petrolio non aiuta certamente a vendere di più, quindi c'è un rallentamento degli acquisti da parte di questi paesi. Quanti? E qui abbiamo suddiviso, abbiamo invito ad analizzare le varie aree geografiche, sempre confrontato gennaio-aprile con lo stesso primo quadrimestre con l'anno precedente. E abbiamo fatto per aree geografiche. Quindi vediamo che il sud-est asiatico sta ritirando di meno. Invece ha aumentato l'Africa, ha aumentato l'Asia e Medio Oriente, l'America, mentre eccolo qua, gli altri, la Russia, hanno ritirato di meno. Questo altri 259 vuol dire che c'è una, si è allargata l'area del numero delle nazioni che sta acquistando. Perché? Perché i prezzi sono bassi. Perché i prezzi dobbiamo vedere, scomporre, togli di a questi e vediamo questo. Dessiamo solamente il sud-est asiatico, questo qua. Ecco, abbiamo avuto una diminuzione del 16-35% di acquisto in quell'area. lì si è acquistato di meno. Si è acquistato di meno. Andiamo avanti. E questa è la Cina. Tutti stanno pensando che la Cina possa essere la via e la strada per uscire da questa situazione. Allora, tutte le imprese, Fonterra per primo, perché lo dice nel commento proprio ieri, il Presidente Wilson, assieme al suo direttore Teo, quello che è, sperano che questa ci sia una ripresa. Beh, io, vediamo, hanno sbagliato nel 2014 gennaio-febbraio, adesso domani dovrebbero arrivare i dati produttivi. Siamo gli unici a avere questo grafico qua, che elabora questa roba. Provate a guardare, questo è stato un acquisto sbagliato. Cioè, la Cina non esiste dati statistici. Se qualcuno di voi ricorda l'anno scorso che la ragazza, che è venuta quella da Emi Uderi, venne a spiegarci dei dati che, a mio avviso, lasciavano un po' perplessi. Bene, oggi leggiamo sui giornali mondiali che hanno sbagliato di 300 mila, gli stessi americani, nella 300 mila tonnellate, le stesse valutazioni degli stock cinesi. Ma non esistono, non c'è dati statistici ufficiali. Quindi devo stare molto attenti. Questo qui io ritengo che sia molto importante è che i nostri esportatori, quando vanno all'estero, facciano delle domande mirate. Facciano domande mirate ai loro colleghi. Perché a volte da uno scambio di opinioni nasce questo. Vediamo quindi che, vedete, il rosso è quello che producono loro. Loro sono in regola. Se li guardiamo qua, questo è il rosso è quello che producono loro. Questo è quello che importano. Quindi stanno ritirando il 23% in meno. Ho già visto i dati, questo qua, i dati di aprile, questo è aprile, che è andato avanti, abbiamo già i dati di aprile della Cina, non sono sempre in diminuzione, sono fermi le loro importazioni. Andiamo avanti. La Russia, altro problema, ci è successo questo in Europa. La Russia, il 69%, questo qui il rosso, è la Bielorussia. È stata l'unica fornitrice, un grande fornitrice di coso. Quindi noi vediamo, questo qui lo vediamo mensile, l'andamento mensile, come era prima, questo giallo in questo qua c'è dentro l'Unione Europea. Noi abbiamo cessato l'anno scorso di fornire in agosto, avete visto? E quindi è scomparsa l'Unione Europea. Rimane la Bielorussia. Vediamolo con i formaggi. I formaggi stanno importando il 58% in meno. Hanno dichiarato ultimamente che aumenteranno loro la produzione di formaggio e dei loro prodotti interni. Io ho qualche perplessità. Ho sentito che stanno acquistando dall'India, non so se dopo Sodici potrà dire qualche cosa, dall'India stanno acquistando del formaggio, cioè pare che l'India diventi un fornitore ufficiale di formaggio. In questo momento è l'Argentina, il Cile, la Serbia e il Kazakhstan, i paesi. Non lo so, l'evoluzione che avremo in Russia. Mi auguro che si trovi, io sono per gli accordi, io sono contro tutti i blocchi, io credo molto negli accordi. I paesi ufficiali non c'è guerra. Quindi io sono per i commerci mondiali. Andiamo avanti. Ecco il nuovo caso. Questo è che sta diventando abbastanza importante. L'USA, ho rilevato questo. Avete visto che non si vedono i prezzi qua sotto? Francesco, non si vedono i prezzi. Prova ad aprirlo tutto. No, non va bene così, vi aprirlo tutto. Ok, grazie. Allora, vediamo il grande salto in su. Importa dalla Nuova Zelanda, gennaio-marzo, rispetto al gennaio-marzo. Quindi c'è una grande importazione di burro. Importa dalla Francia, dal Messico, dall'Irlanda e da altri paesi. Quindi c'è questo grande acquisto, grande che si è scoperto il consumo del burro. Tant'è che domani lo approfondiremo con questo professore per capire questo burro che dà queste possibilità di poter… Vedete, si sta e continua, perché guardate il trend com'è. Il trend è impressionante di questa gente, parliamo dell'America, lo trovo molto impressionante. Andiamo avanti. E le scorte non sono molte, lo vedremo dopo. E le importazioni di CIS, questo mi fa piacere, sono un italiano in fondo in fondo. Ui, non vedo niente qua. vedere che l'Italia è la prima a fornire nel mondo, a fornire gli Stati Uniti. Questo mi fa molto piacere perché sono italiano. E quindi vediamo che loro stanno importando quindi dall'Olanda, dalla Spagna. Ecco un'altra novità, la Spagna. La Spagna che esporta formaggio là. Siete curiosi di sapere se qualcuno mi informerà quale tipo di formaggio la Spagna sta esportando là. E quindi stanno incrementando fortemente le loro importazioni. Vediamo che mensilmente stanno andando bene. I prezzi… No, andiamo avanti, non guardiamo questi prezzi qua. L'export. Quella è la domanda. L'export. Questa è dura uscire, eh? Che va a prendere da una banca dati molto, molto lunga. Eccola qua. Gennaio-marzo. Vedete che c'è il rallentamento che abbiamo visto a livello generale. Fotografando i prodotti, che questo è il latte confezionato, latte confezionato, questo è il burro, questo è il formaggio, questa è la polvia di latte scremato, questa è la polvia di latte intero. Notiamo che gli aumenti, cioè questa diminuzione c'è stata su tutti, ad eccezione della polvia di latte scremato, la quale sta aumentando le esportazioni. Io torno a ribadire, le esportazioni vanno bene perché i prezzi sono bassi. Andiamo avanti. Gli Stati Uniti, esaminiamo quindi se quello per capire i tre Stati, Stati Uniti, Nuova Zelanda e cosa? Gli Stati Uniti vediamo che fino al 2014 tutto è andato bene, adesso questo causa il rafforzamento del dollaro ha diminuito le loro esportazioni e i prezzi negli Stati Uniti sono in diminuzione. Quindi abbiamo una diminuzione dei prezzi, diciamo così, delle esportazioni degli Stati Uniti. Andiamo a vedere con curiosità la Nuova Zelanda e direi veramente che il nostro amico dopo ci commentasse questa. La Nuova Zelanda, vedete che il giallo, questo qua è polvere di latte intero, WMT, whole meal powder. Questo qua è il burro, siete liberi. Questo è il formaggio, mi fa piacere vedere che state aumentando, ho saputo dell'investimento che state facendo sulla mozzarella per esportare in Cina, un grosso impianto, quello è bene, perché abbiamo bisogno che entri il formaggio nel mondo, perché troppa polvere nel mondo crea dei problemi a tutti, anche se sembra di acquistare a volte, ma può creare dei problemi. Quindi mi auguro che il futuro, ecco, la cosa che crederei sapere dopo, se ce lo può dire, è che io vedo comunque la tendenza, seppur in aumento delle sue esportazioni che ha, è ovvio che non c'è più la polvere di latte intero, l'elemento importante, la somma delle due polveri, se vedete, questa più questa, sono uguali gennaio-aprile 2015, sono uguali le due polveri. Quindi vuol dire che sono andati i vostri clienti, acquistano prodotti a basso prezzo, la polvere di latte scremato che costa di meno. Andiamo avanti. Qui vediamo l'Europa, l'Europa che il suo core business è il formaggio e anche lei ha incominciato a produrre molto latte scremato, a vendere, ad esportare molto latte scremato, meno formaggio perché la Russia ha sospeso di comprare. Vediamo che la polvere di latte intero non è mai stato il core business dell'Europa, quella che esporta, diciamo così, però è né esporta. E il burro, diciamo che sta andando abbastanza bene, c'è un rallentamento nel formaggio. Ora questi qui sono dati a marzo. Cosa sta succedendo? Aprile-maggio. Si sta producendo con quel latte prodotto in più, si farà più polvere. Quindi vuol dire anche più burro probabilmente. Quindi può darsi che vediamo se le esportazioni reggeranno del burro come reggeranno quelle della... qui stanno andando bene quelle delle polveri. il cambio ci sta aiutando come europei. Andiamo avanti. L'Europa, questo qui è solamente una piccola... abbiamo fatto il milk equivalent per capire quelle sono le aree dell'Europa dove esporta. Esporta in Africa, esporta nel sud-est asiatico e esporta nel Medio Oriente. sono diventati, mentre è crollato la Russia, l'area extra-UE. Quindi è una... sta andando benino complessivamente, certamente non siamo sotto... non avevamo il più 21 quest'anno, non è questa... quindi ecco il rallentamento che notiamo a livello mondiale delle vendite. andiamo... gli stock, per capirci... l'avete sistemato questo? Grazie. Questo qua, abbiamo elaborato questo, l'idea me l'ha dato, non c'è qualcuno, me l'ha dato un'impresa che non vedo. Non meno che non l'ho ancora vista. C'è? Ha detto, provo a fare consegne di latte in milk production, meno l'export in milk equivalent. Allora, proviamo a guardare che nel 2000, questa qua, gennaio, febbraio, marzo, a marzo, avevamo già rispetto l'anno precedente e rispetto, abbiamo una situazione analoga un po' circa al 2013, perché si è prodotto qualcosa di meno, perché si è esportato di più. Però la situazione è questa qua. Quindi andrà monitorata, abbiamo già le esportazioni della Nuova Zelanda. Questo è molto importante capirlo. Per esempio, il 2011, vedete come ha virato. Nel 2013, che poi ci fu rialzo dei prezzi, era dovuta alla siccità, certamente, è successo questo. Noi abbiamo messo insieme questo grafico che viene a monitorare per capire, per seguire mensilmente quali possono essere gli sviluppi e trarne le conseguenze. Cioè, un buyer, su questo qui io ci ragionerei molto. Andiamo avanti. Gli stock. Gli stock abbiamo, beh, quelli degli USA, vediamo in aumento gli stock delle polveri. Vedete il loro trend. Gli stock dell'Europa sono quelli ufficiali, cioè ufficiosi, sono quelli pubblici, diciamo così, o privati. Non sono quelli presso le imprese. Ma non abbiamo, abbiamo, ecco, qui lo vediamo insieme. Andiamo avanti. Ho quasi finito. Questo mi piace un mondo. Come l'ho fatto? Abbiamo fatto della polvere. Produzioni, più o meno export. Abbiamo creato un trend. E poi facciamo mensilmente questo. Cos'è questo qua? Vedere l'andamento mensile. È chiaro. Vuol dire che la polvere sta andando. Cioè, noi stiamo mangiando delle scorte come polvere. E quindi lo vediamo in diminuzione qua in effetti, eh? Il trend degli ultimi tre anni. Ma qui lo vediamo in diminuzione. Quindi le polveri non ne abbiamo nei magazzini molti. Questo è certo. Non dovremmo averne. Ammettiamo il condizionale. Non dovremmo averne molte. Ci sono dati calcolati così. Dopo, se qualcuno ci dà dei suggerimenti per migliorare, so che ci sono degli analisti molto importanti. C'è poi il sortile. C'è il mio amico Erad Richards. Dov'è? Ecco, ho là. Se ci danno dei suggerimenti per migliorare, ci farà piacere. O qualcun altro. Andiamo avanti. Sulla stock del burro, anche questo qua, gli Stati Uniti non ne hanno. Sono aumentati, ma non ne hanno del burro. Quindi vuol dire... E lì mi pongo una domanda. Lo dicevo prima con degli amici lì. Ma non è che... Sì, al di là che i consumatori adesso vogliono più burro, mangiano più burro. Ma non è che venga utilizzato del burro, molto più burro dall'industria? Punto domanda. Io non vado, non giro negli Stati Uniti per fare queste domande. Certamente sarebbe importante sapere se vi è questo tipo di consumo negli Stati Uniti. Non so se Charles potrà darci qualche idea un domani. Ok, vedete che in Europa, qui siamo dal 99, ma questi non sono stock, stock di altri tempi. Andiamo avanti. Ecco, il livello di stock di burro, qui vediamo proprio, qui il 31 marzo, anche qui lo vediamo in diminuzione, però il 31 marzo l'abbiamo visto chiusura teorica, questo qui è in aumento, in leggero aumento. Quindi si pone la domanda città, ma il latte che stiamo producendo più in aprile e maggio, in polvere, quello scremato, polvere più burro. Dove il burro sta usando tutto? Qui avere i dati aggiornati ogni 15 giorni sarebbe il massimo. Ma non ci sono, non esistono, non esistono. In Europa non esistono dati aggiornati. Li abbiamo della Germania, se vogliamo, della Francia. Potremmo mettere insieme qualche cosa, di monitorare su questi due principali paesi? Però vedremo, se siete qui, lavoreremo insieme. Andiamo avanti. Questo è il formaggio, noi misuriamo il formaggio, uno lo produce in base alla domanda. In questo momento la domanda è diminuita in Europa e quindi non terrei molto in considerazione come gli stock del formaggio. Viene prodotto in base alla domanda. I prezzi. Bene, questo l'ho avuto messo in evidenza. È la polvere di latte scremato. Questa polvere di latte scremato, fermiamoci a osservarla, è l'elemento chiave del nostro mercato. Questo ci dice che il trend è in aumento di questo prezzo della polvere. Poi abbiamo queste punte, uno e una due, che sono dovute a dei fattori esterni, quelli che vi ho detto all'inizio. All'inizio. Quindi oggi i prezzi delle polveri sono tendenzialmente in aumento. Quindi sono d'accordo quando Fonterra dice, il nuovo amministratore, il presidente, che avremo una leggera ripresa verso la fine dell'anno. Mi pare di aver letto se ho capito bene l'inglese. Quindi sono d'accordo che avremo… però io invito anche i neozelandesi a capire che il mercato non è questo, ma il mercato va avanti così. I nostri produttori qui sono presenti, lo sanno benissimo, che si prendono così, dopo l'anno dopo hanno così. È successo così dalla Bona e succede questo qua. Cioè succede questo. Però ecco, i produttori vi ho a dirgli che i prezzi sono questi, che quando ci sono questi picchi sono fattori esterni, secondo il punto di vista. questa. Ecco, questo punto massima, questo qua lo chiedo a Ponterra, che si è raggiunto in aprile 2013, io ho dato un'interpretazione personale. Ho fatto questa attività quando ero un po' più giovane. Questo è stato per me un errore da parte dei buyer che hanno acquistato. Cioè delle notizie che li hanno portati fuori strada. Questo è molto importante disporre di informazioni certe e certificate, dico io. Perché questi buyer qua, l'hanno fatto un errore, non si trova sopra, per poi crollare dopo. C'è un errore di fondo, salvo che non siano altri motivi. Anche questa qua è un'altra. È salito il prezzo, è uscita la notizia della siccità, della possibile siccità in un mese di febbraio, i buyer hanno stato subito i prezzi, hanno cercato di avere da loro parte, giustamente, perché chi si trova sui mercati mondiali si comporta così. Quindi è molto importante avere delle informazioni precise sui mercati. Andiamo avanti. Bene, puoi togliere via il... no, sì, lascendo due polveri. Vedete, i due polveri rappresentano proprio i momenti della siccità. Salgono in modo... perché i prezzi sono tendenzialmente, però salgono quando c'è la siccità qua. Quando dei fattori esterni influenzano il mercato. Qui sotto ci sono tutti i prezzi per confrontarli, per vedere delle varie situazioni, sia in euro che in dollari. Dall'altra parte dopo in dollari. E questa mattina ci siamo confrontati con quello che vi parlerò dopo, del Global Dairy Trade, che ci ha dato alcuni indirizzi precisi, molto bravo, lo ringrazio, Nolan, molto molto bravo, per capire come mettere in chiaro anche il Global Dairy Trade in questo contesto. Mettiamo dentro, voglio vedere il burro, solo il burro. Eccolo qua. Il burro avverte, si è avvertito stranamente nel 2014 questo crollo del prezzo. Qui è stato travolto nel 2009 un po' da tutto. Ma poi il burro si mantiene su di prezzo, complessamente. Se io lo guardo, le materie grasse, tentano segnare su biometicina linea qua, di tendenza per vederle. Ecco, guardiamo il formaggio, solo il formaggio, sui prezzi mondiali. Questo che è stato travolto nel 2009, invece ha sempre un prezzo sostenuto, che poi ha dato lo slancio in più quando ci sono dei fatti straordinari, nel 2013. Altrimenti i prezzi sono abbastanza, diciamo così, sostenuti. Andiamo avanti. Oh, qui togliamo via per piacere, grazie. Questa è una slide importante per noi europei. La Commissione europea ci è venuta a dire che noi siamo stati bravi, dicono loro. Oga, noi siamo stati bravi. Perché mentre nel mondo il prezzo, questo qui è regolato, è un prezzo mondiale fatto dal polio più burro, è salito di prezzo, è esseso di prezzo, noi non siamo messi lì sotto. Il prezzo, questo qua è un prezzo mediato tra Germania, Francia, Italia, Osterreich, Slovacchia e Repubblica Ceca. Cioè noi siamo stati bravi. Quindi la Commissione si è comportata bene. Siamo sicuri? Vediamo l'altra slide, direi di no. Perché loro hanno analizzato, io l'ho contestata. Andiamo sull'altra slide. Questo è il prezzo della Germania, quello verde, quello rosso è il prezzo della Lombardia. Questo è il prezzo di intervento. Ora, a dirà che l'Italia risente anche lei dei prezzi mondiali. Non ci piove sopra, eh? Quando i prezzi scendono, anche l'Italia deve diminuire i prezzi. Non ci piove. Lo vediamo qua, lo vediamo qua. Tutto tende a scendere di basso. Ma essendo l'Italia come la Spagna carente, deve andare a acquistarsi il latte. E mettiamo su SMP più burro e l'altro. Ora vediamo che le nostre imprese italiane hanno comprato il latte nel 2009 a 20 euro, franco arrivo. Le nostre, quelle spagnole, a bassissimo prezzo. Quindi sotto il prezzo di intervento. Quindi quando è stata fatta l'analisi il 24 settembre del 2013, presentata a Bruxelles, io l'ho contestata. Io non faccio parte di nessuna commissione, mi diverto a studiarlo a casa. Però sono andato ad un convegno a dire che non sono d'accordo. E dicendo che hanno sbagliato, perché un'analisi in Europa lo si fa. Europa del nord, Europa del sud, Europa dell'est. Si fanno tre. Uno, due, tre. Ora si analizza. Ma non in altro modo. Tre analisi bisogna fare per capire il mercato, per fare un ente pubblico. Dovrebbe fare così. Invece no, è Europa. E noi siamo là. Non va fatto così. Questo per ragione di logica, non per essere da una parte o dall'altra. Per ragione di logica. Andiamo a vedere. Ecco, qui dicevo in apertura che il mondo agricolo per noi è fondamentale. Il latte, abbiamo bisogno che ci sia. Questo è l'alimentazione, il costo dell'alimentazione. Un veterinario, che domani poi non può venire, mi pare, quel veterinario, ha detto mettiamo il costo mettendo 70 kg di soia, 30 kg di grano turco e 30 kg di soia. Ha ricavato un prezzo. Bene, ora qui dobbiamo dire che i nostri produttori, in questo periodo, hanno perso dei soldi. È vero. Se noi andiamo indietro con il cervello, è vero e è successo proprio quello lì. Quindi mi pare che questo qui sia il metodo giusto, per il mio conto, per misurare che i produttori di latte non vadano sotto, che vanno a perdere. Perché andare a stabilire i produttori di latte, quanto costa produrre, io l'ho contestato. In questi momenti ultimi ho detto che non mi sembra giusto fare così, perché una stalla è da 20 quintali, una da 200 quintali, una da 300, una da 50. Ci sono diversi. Una stalla che va a permigiano-reggiano, diversa da una che va ad altro tipo di prodotto, nell'alimentazione. Quindi però stabilire uno standard, che i produttori abbiano un punto, questo qui lo si potrebbe garantire anche con il Mil Margin Protection, cara Ornella. Speriamo in ottobre di avere il vostro funzionario dall'America, negli Stati Uniti, per poter che ci venga a spiegare ai produttori in che modo coprire, perché non abbiano a dare lo scoperto qui. Perché questo lo si identifica. In questo momento qua abbiamo i bassi prezzi dell'alimentazione, anche se un produttore presente, Giovanni Guarnieri, mi dirà subito che noi a produrre nella stalla e nelle nostre campagne abbiamo dei prezzi superiori. Ma noi non potevamo non dare una logica. Un'analisi la dice così, l'analisi. Dopo ci sono analizzato nel particolare. Siamo all'ultima slide. Signore, qui si produce di più. Questo ci dice, l'anno scorso abbiamo prodotto 9.687 tonnellate in più, abbiamo esportato 4.117, la differenza c'è tutto latte in più prodotto. Questo ha provocato un crollo di prezzi. Oggi il prezzo in Nuova Zelanda è questo, in Europa è sceso il prezzo, anche qua, che in Europa è sceso il prezzo, siamo 29-30 euro oggi. I prezzi che vengono fatti in Europa oggi, saremo sui 25 in euro, sto parlando, in Nuova Zelanda. Quindi oggi bisogna, vediamo che quando si produce un prezzo in più, io mi augurerei che il futuro sapesse trovare un equilibrio. Chiudo leggendomi una mia finale. Le conclusioni che vi dico hanno come presupposto l'assenza di eventi internazionali quali la siccità, malattie o guerre. La domanda mondiale di prodotti retirocasiali continuerà, ma a prezzi contenuti, stabili, specie delle polveri, poiché destinati ai paesi in via di sviluppo. In particolare la SMP, la Skin and Milk Powder, dove gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Nuova Zelanda si contenderanno il mercato. La domanda. Non vediamo movimenti o eventi dal lato della domanda e dell'offerta che abbiano il potenziale per rompere l'attuale situazione. L'attuale situazione non vediamo. L'UE ha un mercato dipendente dalle esportazioni e dai concorrenti USA, Nuova Zelanda e Australia. Lo scenario è sbilanciato quindi ed il risultato dovrebbe essere stabilità con bassi prezzi per un certo numero di mesi. L'Italia, paese produttore di formaggi, il 51% del latte prodotto in Italia è destinato ai formaggi DOP. Sentirà in parte le conseguenze di questa situazione, poiché importa notevoli quantità di prodotti retirocasiali da alcuni paesi UE. È consigliabile quindi disporre di una giornata affidabile e tempestiva informazione dell'andamento del mercato per seguire l'evoluzione. Mi auguro che i diversi operatori europei della filiera, produttori latte, imprese trasformatrici, uniscono le loro forze creando un unico centro studi. Mi rivolgo a CNIEL, a IFE, a ZUIVEL, AEMI ed anche gli italiani SMEA con dati ed informazioni in tempo reale per ragionare sull'andamento dei mercati. Per me devo unificare le forze per potervi dare immediatamente la situazione perché voi operatori dovete saperle immediatamente. Io conosco diversi operatori che sono qui presenti, so con quale ti telefono, voglio sapere la situazione. Noi dobbiamo essere capaci di dare via internet, via altre formule, come va la situazione. Una maggior conoscenza potrebbe ridurre, potrebbe ridurre la volatilità. Parleranno dopo i FUSES che è altra strada del potere ed è l'asta di Fonterra, ci sentiremo clare e disponibile a lavorare su questo progetto di creare un centro studi, ma in un modo sereno, ognuno stando a casa propria, però cercare di, con delle riunioni per ragionare, comunicare. Erard capisci, dobbiamo arrivare a comunicare ai nostri operatori che abbiamo qui presenti e anche quelli europei. Perché io vedo come si muove Arla, Prisland Campina, Doigian Milcontres, DMK, dico bene sì. Vedo, penso che se noi diamo a loro un'informazione in tempo reale, molto, sia di grande beneficio per il nostro settore. Penso che su meravigio. Quindi quello che avete visto oggi è uno slide show, dovremmo quando questi ragazzi lo vorranno trasportare in PDF automatico, tic tac, potete togliervelo fuori e ripresentarlo a casa vostra col PDF se ne avete bisogno. Però sarà loro. Grazie. Grazie ad Angelo Rossi che ne sono testimone. Anche stamattina ha fatto gli ultimi ritocchi per dare tutti gli aggiornamenti ultimi del mercato. È stato così bravo che ha anche fatto le conclusioni, per cui non le devo fare io. Mi permetto solo di sintetizzare quello che è l'andamento di mercato secondo Clale, secondo anche la maggior parte degli analisti. Stabilità con basso prezzo per il 2015 lattiero caseario e, oserei dire, una ripresa presumibilmente nel 2016. Uno spunto fra i molti importanti, poi alla fine anche lui dovrà soggiacere al rito delle domande, ha suggerito e ha raccomandato un unico centro studi. Io credo che Clale sia assolutamente in grado e abbia tutte le competenze, dal momento che è già in oltre 180 paesi, per fornire un contributo valido a tutti gli operatori e anche alle istituzioni che poi devono in qualche modo intervenire.